...delle 72. Vedete che lo so, e credevate che no, lo posso dire una, due, tre, quattro, cinque volte, una, due, tre, quattro volte, lo posso dire, basta che non ci guardate, che non mi guardate, che non mi spaventate, che non parlate al mano trattone, no! Grazie a tutti!